l'ordine del giorno numero 7 che è sulla falsa rega del precedente. In questo caso l'agente inquinante che si è considerata è quello prodotto dalla combustione non industriale, ovvero gli impianti civili per il riscaldamento. Gli inquinanti sono soprattutto di nuovo il particolato atmosferico, ma anche i composti organici volatici, il monossido di carbonio e in parte anche l'anidite carbonica. Quindi uno dei componenti dei famigerati killer gas climaalteranti. Tra l'altro su questo voglio dire che in merito alla concentrazione di CO2 proprio sabato c'è stata una riunione dei ministri dell'ambiente della Comunità Europea e sono state riconfermate gli orientamenti in merito alla volontà di abbattere queste concentrazioni di CO2 entro il 2050 e la percentuale è passata dal 40 al 55%. Quindi un'intenzione che poi sarà riconfermata, immaginiamo, nelle sedi opportune sempre della Comunità Europea. Fatto questo breve inciso, tornando al piano di risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, per quanto riguarda questo tipo di inquinante dovuto al riscaldamento civile, uno dei provvedimenti importanti richiamati dall'aggiornamento è il fatto di prescrivere nei capitolati d'appalto di fornitura di calore sottoscritti da enti pubblici e prevedere che venga dichiarata la classe energetica dell'edificio. E per classi energetiche uguali ed inferiore alla classe D si prevedono anche quell'intervento di risparmio energetico mediante azioni sull'impianto o sull'involico edilizio. O l'attestato di prestazione energetica è qualcosa che tutti conosciamo, è diventato famoso allora quando già da anni ormai è stato prescritto che in tutti i contratti di compravendita delle abitazioni sia obbligatorio, quindi è qualcosa che Notari adesso chiede o altrimenti è inficiato l'atto di compravendita. O non che sia attualmente una novità perché già il decreto legislativo del 192 del 2005, che è un po' la Bibbia per quanto riguarda la normativa italiana che disciplina la materia, prescriveva che laddove c'è un soggetto pubblico che affidi gestione di impianti termici di edifici pubblici, debba essere predisposto l'attestato di prestazione energetica. L'attestato di prestazione energetica è un documento importante perché fa una fotografia delle caratteristiche energetiche dell'edificio. Tra l'altro in una sezione di questo documento c'è proprio l'indicazione degli interventi migliorativi, cioè è obbligatorio indicare anche quali sono i possibili interventi per ottenere delle classi energetiche migliori, quindi le coibentazioni, la sostituzione degli impianti e via discorrendo. A volte per poter fare un sano e corretto e valido attestato di prestazione energetica occorre premettere una diagnosi energetica, che è un'altra azione molto importante perché entra nel merito delle caratteristiche dell'edificio e quindi arriva a meglio indicare quali potranno essere gli interventi migliorativi futuri. Detto tutto questo, noi sappiamo che la nostra amministrazione ha affidato appalti di fornitura di calore per riscaldamento di edifici, nonché appalti per la manutenzione e la gestione degli stessi impianti di riscaldamento a servizio legale di edifici. E fra l'altro, noi sappiamo, tutti i commissari di lavoro pubblico sanno che c'è tutta una campagna di sostituzione delle vecchie caldaglie con nuove caldaglie a condensazione, nonché implementazione laddove è possibile di sistemi solari, quindi pannelli solari per la protezione di acqua calda sanitaria, quindi qualcosa si sta facendo. Allora, detto tutto questo, vado a leggervi il dispositivo quindi, che è questo. L'Assemblea di Capitolina impegna la sindaca alla giunta affinché tutti gli edifici di proprietà comunali nei quali viene erogato il servizio di riscaldamento degli ambienti vengano dotati di attestato di prestazione energetica qualora ne fossero privi. Ma non solo, poi chiediamo che per la redazione di detti attestati e per lo sviluppo delle eventuali diagnosi energetiche laddove necessario, si valuti anche la possibilità di sottoscrivere convenzioni con le categorie di professionisti abilitati e titolari di mettere certificazione di prestazione energetica e per le relative spese, nonché per quelle sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti termici a servizio degli edifici, si valuti anche la possibilità di attingere agli eventuali incentivi erogati dallo Stato. Quindi con queste due indicazioni del dispositivo si richiama anche, per quanto riguarda gli incentivi, quanto già indicato dal signor Federico del Fareverde, lui ha citato il conto termico, ha ragione, è uno strumento importantissimo, molto disattesto dai comuni, ma non è solo un problema romano, è un problema di tutti i comuni italiani. Questo è un incentivo mal digerito e mal usato, e invece deve essere usato. Nonché ho indicato la possibilità di sottoscrivere convenzioni con le categorie di professionisti abilitati e titolati, perché così in questo periodo di emergenza sanitaria e tragico di sofferenza economica diamo anche un'aiuta a tutte le categorie che possono essere coinvolte nel risollegare l'economia nazionale. Grazie Presidente.